Ben trovati! Alle 17 e 10 ci attendono le divertenti situazioni di cotti e mangiati. Alle 17 e 15 vedremo Don Matteo IV in una nuova difficile inchiesta a cui seguirà una puntata del telefilm La Signora in Giallo. Alle 19 e 10 spazio al poliziotto a quattro zampe il commissario Rex. Seguiranno le notizie del TG1 in onda alle 20. Citerà poi compagnia l'appassionante game show Tutto per Tutto, condotto da Cupo. Alle 21 non perdete il film drammatico Le Due Verità di Jane, protagonista del film Una Donna, che appena rimasta vedova scopre che il marito conduceva un inquietante doppia esistenza. Alle 22 e 55 Michele Cucuzza presenterà E la chiamano estate. Vi segnala inoltre alle 23 e 55 il trofeo di danza moderna Stefania Rotolo, che Maria Grazia Traverso e Corrado Tedeschi presenteranno dalla piazza principale di Corleone. Buonasera.